La perizia impossibile Iara, le ragioni della Corte d'Appello, la prova del DNA è valida perché non sono stati violati i principi del contraddittorio. Un'eventuale perizia, chiesta a gran voce dalla difesa, consentirebbe un mero controllo tecnico sul materiale documentale e sull'operato del RIS. Ovvero, non si può rifare. Altro che diritto alla difesa. Ansa, è valida la prova del DNA perché non sono stati violati i principi del contraddittorio e delle ragioni difensive riguardo la prova regina che ha portato all'ergastolo Massimo Bossetti per il delitto di Iara Gambirasio. I giudici aggiungono che non vi sono più campioni di mappello. Il materiale genetico in misura idonea a consentire nuove amplificazioni e tipizzazioni del DNA trovato sul corpo della tredicenne. Ed è per questo che una perizia sarebbe stata un controllo del lavoro dei consulenti dell'accusa e della parte civile. Iara, Appello, media non hanno influenzato processo. Ansa, il processo d'appello per l'omicidio della tredicenne Iara Gambirasio conclusosi con la conferma dell'ergastolo per Massimo Bossetti, oltre a svolgersi nelle aule di giustizia si è svolto parallelamente sui media, alimentandosi di notizie vere e notizie false, senza peraltro in alcun modo influenzare la regolarità e serenità del processo giudiziario. Lo scrivono i giudici della Corte d'Assise d'Appello di Brescia nelle motivazioni della sentenza per il muratore di Mapello, presieduti da Enrico Fischetti. . . . . .